Possiamo dire che questa figura è molto viva, molto presente e ci auguriamo che quanto prima anche sia elevato agli onori degli altari. Monsignor Settimio Arturo Ferazzetta, francescano, primo vescovo e primate della Guinea-Bissau, nasce a Selva di Progno nel 1924 e battezzato nella chiesa parrocchiale. Entra giovanissimo nei frati minori e viene ordinato sacerdote nel 1951, quindi missionario in Guinea dove assieme ad alcuni confratelli inizia la costruzione delle prime opere della chiesa cattolica. Prima fra tutte il Lebrosario di Comurra al quale seguono molte altre opere in campo sanitario e scolastico. L'opera iniziata da Monsignor Ferazzetta in quella martoriata nazione continua grazie anche al volontariato presente nel paese natale. Allora noi altri collaboriamo con le missioni che sono attualmente in Guinea-Bissau, con i padri francescani, frati francescani, per la costruzione di alcuni edifici, scuole e anche degli ospedali. Insomma diamo dei contributi in questo momento, oppure alcuni di noi che sono dei tecnici vanno per fare degli impianti elettrici o coperture. Il mio compito è partito da quando è stato eletto Monsignor Ferazzetta, vescovo. Lui mi ha chiesto espressamente, mi diceva, ho bisogno di te adesso, che dobbiamo fare tutte le basi delle varie missioni in Guinea, vale a dire case, scuole e tutto quel che poteva servire per le missioni. E così che mi ha preso, ho cominciato nel lontano 81. Monsignor Ferazzetta, stimato e rispettato non solo dalle popolazioni cristiane ma anche dagli animisti e dai musulmani, costruisce anche con le proprie mani le brosari, ambulatori, farmacie, laboratori, reparti materno-infantili, asili e officine. Questa figura raccontata nella recente pubblicazione diventa un simbolo per Selva di Progno. Ferazzetta è un simbolo per questo paese perché è riuscito a tramandare dalle varie generazioni la sua figura. La sua figura ha dato l'opportunità a noi di capire cosa vuol dire essere missionari e ha inciso in questo paese il senso di missionarietà. Nel 1998, allo scoppio della guerra fra le fazioni rivali in Guinea-Bissau, il vescovo Ferazzetta diventa l'uomo della mediazione e della pace nella continua ricerca del dialogo fra le parti in lotta, affrontando innumerevoli sacrifici purché la speranza di pace si trasformi in certezza. Morirà nel 1999. La virtù dei Ferazzetta era la pazienza e l'ascolto perché sapeva che il compromesso saggio e intelligente era necessario per mettere assieme le parti.